Oggi siamo qui per una conferenza sul metropolitano Agni di Suros, intitolata Encounter and the Experience of Freedom, che è il risultato di una settimana di esposizione di una mostra proposta nel lontano 2015 al Meeting di Rimini. La mostra è stata riadattata, l'abbiamo un po' accorciata e ovviamente tradotta in inglese. Abbiamo voluto concludere la mostra facendo questa conferenza dando un tono più accademico essendo tutti qua in Oxford e anche per creare un momento di incontro tra sia i volontari e i partecipanti alla mostra, che sono parte dell'esperienza del Movimento di Comunità di Liberazione, che tra coloro che erano più legati al metropolita, per davvero, i suoi fedeli praticamente, i suoi parrocchiani. E devo dire che questo sta accadendo ed è una bellissima esperienza.